Nella Chiesa della Divina Misericordia di San Nicolò si è tenuta la veglia di tutti i Santi 2024, che quest'anno ha avuto come tema Santi Insieme. Accolti dall'equipe del Servizio per la Pastorale Giovanile guidata da Don Orazio Sciacca, i giovani della Diocesi sono stati indirizzati nel percorso verso la santità attraverso riflessioni preghiere e la drammatizzazione della prosa. Ci impegniamo di Don Primo Mazzolari, curata dalla gruppa animazione del coordinamento degli oratori della Diocesi. I ragazzi del coordinamento hanno infatti animato l'accoglienza che dall'arrivo dei primi giovani è stata un momento di gioia e di festa. La veglia, che è stata incentrata sui temi della sinodalità, della fraternità e dell'impegno, ha visto la partecipazione di centinaia di giovani accompagnati dai propri sacerdoti e dai responsabili dei gruppi giovanili. Abbiamo vissuto anche quest'anno la bellissima veglia di tutti i santi con i giovani della nostra Diocesi. È stato un momento davvero carico di fede, ma allo stesso tempo carico di entusiasmo, di gioia. Ed altronde quella gioia giovanile che deve caratterizzare la vita della Chiesa. Abbiamo parlato di santità vissuta insieme. Santi insieme è stato il tema della veglia. Ognuno di noi è una testa di puzzle, possiamo dire così, nel grande progetto di Dio, nella vita della Chiesa, nella vita della società. Siamo chiamati a spenderci per edificare il regno di Dio. E l'amore vicendevole certamente non può che illuminare la nostra vita e può spingerci a fare tutto ciò. E allora possiamo davvero camminare insieme, guardando ai santi che sono già in cielo questi esempi di vita, affinché anche ciascuno di noi possa diventare santo come Dio è santo.